Che fai? Quindi? Che fai? Che sai che hai detto? I progioni stavano... Ho visto una foto che stavano... Un macerone... Ti capito che sono i progioni? Eh sì, sì ho capito Quelli cattivi E stavano uno nella foto di un matrimonio E in pratica stavano sti progioni in mezzo alla foresta E li passavano davanti Mello ci faceva la foto Non fa dare Ma perchè c'ho il ping così alto io però? Eh non è possibile però eh Mi piacerlo a 50 Ma ogni tanto da 10 e da 10 C'è quanto a me cazzo? Ma io a 60 in realtà Io a 30 Ora a 10 Sì Dando male Ora a 5 C'è da 50 a 5 di passa ma cosa è possibile? Ora a meno 3 stavano Sì sì C'è uno qua eh qui Già è nitto al primo Guarda come si scappa No che mira di merda Meno male che non ho distrutto il Stai vendendo i maschini Ah ok Taurus 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 Cosa Quindi bizzוט città Ah ci sono scudato Cazzo è sto Porca miseria ma non riesco Come andiamo Oh come on Che c'è un po' che c'è Oh come on non sono infiniti grazie a piazza eh, se suizcando un po' come la mitra i dati ah 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 ooooh ah io sono arrivati... poi se vuoi tutto sta qua ah ma non sei... io ho carico on la... on la... io non so... ma l'ho fatta il 10 ah... eh... ho fatto il finale Sì, non è vero, non è vero, non è vero Oh, c'è gente qua da me Occhio, eh Dove? Eeeh, dove sono passato io? Oh no Sto vicino Ma chi che mi ha fatto saltare? È stato giusto, come il solito Andiamo, lo sono ammazzando ma l'avete fatto Io avevo guardato io Ma l'avete fatto Oh, che cazzo Che schifo Oh Questa è meglio Eh, ci potrebbero aver vuoto quegli anticoietti Ma non riesco a trovarle Oh, adesso tra l'altro Sì, vissi Ah, ah, adesso tra l'altro Sto sardente, non te l'ho detto, ma quando mi hanno dato delle ruote e una scia prima Ma pure mi hanno dato qualcuno, anche a me mi hanno dato delle ruote Nooo colpi del bot Oddio mi sta massacrando, da che masch... Mamma mia raga, non date 3 vuole nessuno Oh maio Ma che cazzo è successo? Ma non ho neanche toccato il Kotlin, ma come è possibile? Chi è giuse però Che torte li spai? Allora io non cazzo, ti funghi, funghi cazzo Eh cazzo, i funghi Che galucinogeni Oh! Mado! Mi sono ripetato papadosso, cazzo Che mi sparo Cazzo fai oh? Vado tu Tu vado eh? Ma che non c'era la cassa con la barriera di parare qua? Non era verso di qua più o meno Ah la chitarra Oh! Ma la piglia eh? Eh niente, non la piglia Ma è balga... Oh ma è balgata Ma voi riuscito a pigliarla? Oh non me la faceva pigliare Boh Boh, si era balgata a me Boh Eh le cose guerite Vabbè No! No! Ma tu che ho sparo? Eh! Che cazzo è oh? Mi chiede io fa cazzo Vabbè Gli ho colpito giusto giusto Non ho parole, scusate C'ho parole veramente No, tu giustamente ha colpi ciò Ma tu che fai cazzo in più Giuse ma che cazzo fai? Fuori scorta No! Vabbè Ma... Ma ora che massimo Vabbè 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 Ma come è diventata così la ma sta... Ah ci sei entrato prima Ti hai trasformata Eh sì Almeno rito un po' Eh c'è c'è il barire dello surf C'era là comunque Eh non l'ho vista Volendo Volendo non volendo Ma non c'è mai nessuno in questa parte di mappa Che giuse Chi è? Oh! Sono spondato qua Ma quello è vero Michele Ma dove mi scappo? Guardalo Ce ne sono due No l'ho massacrato eh Ma era vero comunque Mi stava scappando di brutto Oh! Ma allora si trova il cerchino così allora Un cerchino blu eh Ma allora si trova in giro mi sa eh Allora i loyano No Ma… Uh … Ma ora ci sei Ma and resta Allora Mi stava Ma and then Ma and then Ma and then No Ma and then Ma and then Ma and then kalian Qua non c'era la cassa per curare o qualche parte? No no, doveva essere qui da qualche parte Mi ricordo che era qua Ah si si è qui Più o meno Forse dall'altro lato Ma non ho senso che non c'è mare Ma non sopperti qua Forse è lì, vediamo chi c'è Ah, sopperti Eccola qua, vedi Ah Ah La riparò anch'io E' giusto se si è spaccata già in quel tempo Ho sbattuto su una cosa E' giusto se si è già spaccata tutta Ma c'era il mirino quel DMR No lo piglio io E' giusto se lo piglio allora E' un mio E' un po' con il mio Questo a vado Ma c'è nel bunker che sei E' sto dovevo dire Che c'è il bunker Il piglio Non è piu' giù tutto qua No le ho lasciate queste cose Questo è l'offenda questo per favore non c'è l'altro pombo, io preferisco l'altro cecchino se cecchino si può modificare facendo gente, il cecchino tecchiemente si tecchiemente lo puoi modificare il cecchino ahhh ma non è propriamente questo spara più colpi, non è colpo singolo come quello non è di facile vedere qua c'è una macchina lì invece ho anche dm effettivamente no aspetta fammi dmr più cecchino sai che ti dico facciamo così va ma il rompio non l'avete preso voi no mi sei girato perché c'è le gomme troppo grosse mi tengo questo dmr come cecchino non c'è una cosa per riparare qua vicino c'è una macchina potente qua raga porca puttana no da me merda guarda che figli di puttana me l'ho pure buttato giù guarda che fai distrutta questa cosa guarda che fai distrutta questa cosa eeeh porca sparagli giuse cavolo ho la macchina distrutta sta curando il coglione di quanti cazzo di cos'è avevo questo dmr guarda quanto spuma c'è questa è perché se la stava pure facendo devi spuma c'è qua adesso si ma dobbiamo ripararla sta cosa mi sa che non si può più tra l'altro no ma qui hanno distrutto tutti ma quello è qua eh ma che parte è qua il coglione nascosto è qua dice qui dove sono io c'è gente guarda che fai infidora ok C'è un po' qua, che fa saltare l'anno come... ...dua! C'è già morto, dottor! Ah, ma c'è la mazza! Ah, la corona! Ce la prendo! Oh, c'è uno! Oh, Dio! Oh, merda, ci stanno massacrando! Via, via, via! Stai animando pure! Bastardo, quello di prima! Sparagli! Ma chi? Questo che stai animando! Chi è che sta guidando? Chi ha? Io, 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 io sto guidando! Sono qua sotto la montagna! C'è uno ancora qua! Eh, dove? Eh, dietro! Questi passi ho visto! L'ho visto, l'ho visto! No, c'è uno con il guante! C'è uno con il coglione! Eh, vabbè, colpisci da me! Via, merda! Fuggiamo, fuggiamo! No! Via, via! Ah, via, colonna! Dove va la vida? Ecco, ecco! Madonna! C'è uno con il coglione! Ma, c'è uno con il coglione! Iniziamo, eh! Sceso! Ma, comunque, ce n'avevano uno qui, eh! Che è sceso! È bianco! Madonna! Come l'ho preso bene! Io sembra come cazzo l'ho battuto a quello! Che cazzo è andato? Era qua, che lo stavo cercando! Oh, merda! Un po' salito! Oh, ragazzi! Ho salito qua! Oh, merda! Ho fatto come macchina, cazzo! Come montagna! Madre, cazzo! Scendo il coglione! No! Se ha salito di merda, cazzo! Ah! Lo battuto! Che palle sta salita! Ho fatto buone valli, però! Ecco un altro qui! Occhio! Ma è dietro l'albero? Dove cazzo è? Vedi? No! Vedo un cazzo! È un altro uno qui! Occhio! È un bot, quello! Qua! E' un bot, quello! Gli 121! In testa l'ho preso! Ah no! Mi serve un bot anche quello! C'era uno con la chitarra che è andato verso di là eh! Quindi... È nascosto lì da qualche parte! C'è uno qua! C'è uno qua sotto! Ho visto i passi! Vengo subito! Due solo! Oh merda! Oh! Ah ma qua è aperto! Camperoni questi eh! Questo è qua! Ah! Sette qua voi! Sì sì! Oh! Ah! Ma! Dove? È morto! Era un bot quello però! Questi qua non sono... Gli sono in tre qui sti cazzo! Che! Non la cosa è fatta! No! Non sono in area! Non sono potente anche questi! Mi sono atratto! Ma non è lì! No! No! Non c'è un poids! Mi stavo scramendo via! Ma te l'ho ucciso Vedo un cazzo Siamo 3 contro 2 Ecco l'ho visto Ah 69 nei piedi l'ho preso Sopra il tetto No è sceso Madò è bianco eh Adesso muore Ah è male Oh qua arriva Eccolo Madò Sì Vai via Cos'è la piazza Questa è la piazza Questa è la piazza